Saranno cinque anni bellissimi, cinque anni intensi, cinque anni faticosi, cinque anni duri ma saranno cinque anni appassionanti e lo saranno soprattutto perché io lo so, l'ho visto durante tutta questa campagna elettorale, lo vedo oggi e la so ancora di più che lo vedrò domani che io non sarò mai da solo, che noi questa sfida la condurremo insieme e questa città la cambieremo insieme perché solo insieme, solo con la partecipazione, solo con l'unità si possono raggiungere i grandi risultati e questa è la città più bella, più straordinaria del mondo, ha bisogno di visione